Sindaco Bucchetti, se a Termoli l'amministrazione sceglie un percorso alternativo per promuovere il ricorso contro il posto, all'Arino è lente a impugnarlo? Sì, io ho voluto seguire un percorso istituzionale. Innanzitutto abbiamo fatto un incontro di regione con il commissario ad acta, il presidente Toma, come conferenza dei sindaci. Tutti i sindaci del Molise hanno incontrato il commissario e hanno messo in evidenza quali erano le criticità di questo posto. Soprattutto gli amministratori del Basso Molise hanno evidenziato delle grosse perplessità su questa riorganizzazione. Dopo l'incontro, siccome le risposte che ci sono state date in quella sede non ci hanno soddisfatto, abbiamo deciso insieme all'ambito di Termoli e precisamente col presidente dell'ambito di Termoli, Francesco Roberti, di fare un incontro insieme. Abbiamo elaborato una nota che abbiamo poi inviato al commissario ad acta per dissentire da come era stata elaborata questa riorganizzazione sanitaria. Nello stesso contestualmente abbiamo anche deciso, però la scelta sicuramente era individuale, che nel caso in cui non ci venisse data risposta a questa nota, tutti i comuni erano liberi di eventualmente ricorrere alle vie legali. Noi come Comune di Latina abbiamo deciso di fare questo ricorso. Vietri, progetto di Casa della Salute Langue? Come Casa della Salute non Langue, perché negli ultimi anni come ospedale di comunità sono stati attivati alcuni servizi. È chiaro che devono essere attivati degli altri, devono essere completati, bisogna dare completezza a tutta una serie di servizi che sono previsti come ospedale di comunità, come ospedale territoriale. È chiaro che noi ci auguriamo che con i prossimi fondi, con il prossimo piano, ci sia un potenziamento di tutte queste attività e l'ospedale Vietri possa essere veramente da supporto non solo a Termoli, al Basso Molise, ma a supporto a tutta la Regione Molise. Il PNRR e il PNRR possono essere quindi l'occasione, se adeguatamente sfruttati, per rivitalizzare il presidio? Allora, io non ho conoscenza dettagliata delle possibilità col PNRR, perché col PNRR sicuramente queste risorse possono essere utilizzate per investimenti. Noi abbiamo invece un grosso problema, che è il problema del personale, delle risorse umane. E questo problema non c'era solamente l'ospedale Vietri Larino, ma c'era tutta la sanità regionale. E se noi siamo in queste condizioni, perché purtroppo chi era deputato, ma il fatto anche che siamo una regione piccola, quindi poco attrattiva per gli operatori, c'è questa difficoltà che è fondamentale per poter erogare servizi di qualità ai cittadini. Quindi bisogna vedere, secondo me, trattare con il Ministero, sensibilizzare un po' lo Stato, il Governo, per decidere una politica un po' diversa, diversa da quei criteri stabiliti fissati nella Balduzzi. Cioè, secondo, a mio parere, c'è bisogno di una politica nazionale sanitaria più solidale, soprattutto per le aree interne, le aree più disagiate e le piccole regioni come il Molise.